Se conosco già piuttosto bene l'inglese, questo può aiutarmi a iniziare a studiare il tedesco? Bene, questa è una delle domande che mi sento opporre più spesso e da più tempo dai giovani studenti principianti, ma anche dagli adulti, amici, parenti e conoscenti che vorrebbero provare a imparare il tedesco. Ovviamente per i più disparati motivi, per passione, per interesse, per lavoro, per necessità, per le vacanze, forse perché un po' sanno che il tedesco è una lingua difficile, soprattutto per un parlante italiano, e quindi sperano un pochino di trovare aiuto e conforto nel fatto di conoscere già più o meno bene un'altra lingua, come appunto l'inglese. La risposta che posso dare io è Jain, che è un po' l'equivalente dell'italiano Ni. Allora, non posso dire assolutamente sì, non c'è problema, vai tranquillo, perché se sai l'inglese il tedesco è un attimo, ma nemmeno posso dire no, assolutamente non serve a niente. Quindi il fatto che tu sappia già l'inglese ti è totalmente inutile per lo studio del tedesco. È senza dubbio un discorso molto complesso, però vorrei provare a semplificarlo in modo leggero, magari anche un po' divertente, partendo con tre piccoli esempi sul perché no, non serve a niente che tu sappia l'inglese, e terminare poi con tre piccoli esempi sul perché sì, il fatto che tu sappia l'inglese, ti sarà molto utile. Iniziamo quindi con il primo esempio per il nine, no. Riuscire a comunicare, parlare e farsi capire in inglese è abbastanza facile. Attenzione, non ho detto parlare e comunicare bene in inglese, però se si vuole conversare, intrattenersi, oppure chiedere dell'informazione o chiedere un qualcosa, in inglese ci si riesce piuttosto facilmente anche con quelle poche parole che si hanno memorizzato nel corso della propria vita. Riuscire a comunicare in tedesco all'inizio è piuttosto difficile. Perché? Ho messo questa immagine perché la struttura grammaticale tedesca è veramente, veramente complessa. Soprattutto se per chiedere qualcosa utilizzi dei verbi composti o dei verbi separabili. Il problema è che non è che tu dica qualcosa male. Tu non dici proprio niente, non riesci a pronunciare la frase. Tanto per farti un esempio concreto. Spesso gli amici mi chiamano e mi chiedono il favore di poter tradurre per loro una frase, magari di lavoro o di qualcos'altro. Ad esempio un mio amico aveva ricevuto una mail di lavoro in tedesco e mi aveva chiesto questo favore. Quindi mi aveva letto la prima parte della frase e aspettava che io gliela traducessi. Al che io aspettavo, lui aspettava e quando poi mi ha detto ma perché non me la traduci? Io gli ho spiegato mi devi leggere anche la seconda parte. E lui traducimi intanto questa prima parte. Io non posso perché il verbo è in fondo alla frase, quindi se tu non mi dici la seconda parte, quindi con il verbo importante, io non posso tradurre nulla di tutto quello che mi hai detto. Ma come? Ma se ti ho praticamente dettato tre righe di frase? Lo so, possono essercene anche dieci, ma se tu non mi dici il verbo principale io non posso tradurla. Quindi era rimasto piuttosto scioccato da questa costruzione grammaticale. Ovviamente non sono tutte così e non sono così complesse, però rispetto all'inglese un po' più difficili, sì. Una delle domande più frequenti che ci si pone quando si studia il tedesco è Ma questo che caso è? Sì, perché devi sapere che in tedesco si declina praticamente tutto. A partire soprattutto dall'articolo. Il tedesco ha tre generi più il plurale e tutti vanno declinati secondo quattro casi. E poi ci sono ovviamente anche gli articoli indeterminativi. I miei studenti quando si trovano davanti la tabella della declinazione dell'articolo ripensano con un sospiro di nostalgia all'inglese. Un articolo determinativo e un articolo indeterminativo. Praticamente sempre uguali. Poi si declinano anche alcuni sostantivi. E infine gli aggettivi. La declinazione dell'aggettivo è abbastanza impegnativa. Paradossalmente è fortemente avvantaggiato a studiare tedesco chi ha già studiato latino. Perché ha già chiaramente in testa come funziona una lingua che segue dei casi. Perché gli è più immediato declinare a seconda della situazione o delle caratteristiche di una frase. E poi in latino le declinazioni sono sei, in tedesco quattro. Quindi diciamo è tutto guadagnato. Passiamo ora al terzo, nein. La pronuncia. In tedesco è piuttosto difficile. Perché ci sono suoni che normalmente un parlante italiano non utilizza. Basti pensare che solo dire io diventa complicato. Ich. Ich. E quindi all'inizio c'è da lavorarci un bel po' sopra. Però una piccola cosa positiva c'è. In tedesco una volta che impari come si pronuncia una determinata lettera, una coppia di lettere, sarà sempre uguale. Salvo rarissime eccezioni. Quindi qui direi un punto a favore del tedesco rispetto all'inglese. Bene, ora non vorrei che tu ti senta scoraggiato. Perché passiamo invece al sì perché, ovvero allo ja. Bene, nonostante come ti ho spiegato prima la grammatica sia molto più complessa, ci sono però alcune frasi che si compongono allo stesso modo. Questo è l'esempio più classico. Come vedi qui il tedesco è molto simile all'inglese rispetto a un italiano. Quanti anni hai tu? Io ho 25 anni. Magari aggiungerei. Non è molto, ma è già qualcosa. Passiamo al secondo punto positivo. Ci sono veramente centinaia di parole simili, addirittura scritte allo stesso modo, anche se pronunciate in modo diverso. Andiamo a vederne alcune, quelle di uso forse più comune. Kind, kid, friend, friend, mann, 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 mädchen, maiden, kinder, children, vater, father, mother, mother, son, son. Attenzione alla prossima perché è uno degli errori più comuni. Il suono è identico. Il suono è identico, cambia come si scrive. Fish, fish. Hund, hound. Anche qui il suono è più o meno simile. Maus, maus. Schwan, swan. Qui invece è scritto identico, ma si pronuncia in modo diverso. Wolf, wolf. Sommer, summer. Nelle prossime due stessa cosa di wolf, wolf. Winter, winter. Wind, wind. Storm, storm. Come hai visto sono già molte, ma come ti ho detto all'inizio, ce ne sono centinaia di simili in questo modo. Passiamo ora al terzo, ja, ovvero perché il sapere parlare in inglese può aiutarti con il tedesco. La spiegazione è forse quella più affascinante, ovvero perché l'inglese e il tedesco appartengono allo stesso gruppo linguistico, quello delle lingue germaniche. Ora, un discorso sulle lingue germaniche e sul loro sviluppo in questo momento sarebbe abbastanza ampio e complesso da affrontare, posto che mi piacerebbe moltissimo perché io sono laureata in filologia germanica e quindi è ciò che amo fare e studiare. Ho deciso quindi che farò una lezione a sé, dal proto germanico a oggi, dove illustrerò tutti i cambiamenti, tutti i processi, gli sviluppi di questo gruppo linguistico delle lingue germaniche, appunto. A parte però l'interesse storico-culturale, perché è importante in questo video e in quello che voglio dirti? Perché tu, studiando l'inglese, hai già sviluppato una forma mentis diversa dalla tua lingua madre, quindi da una lingua come l'italiano che ha strutture, suoni e costruzioni completamente diverse. Conoscendo, parlando, gestendo, pensando in inglese, già il tuo cervello ha fatto un piccolo passo avanti rispetto a quanto sapevi prima, quando sapevi solo magari una lingua. E quindi questo ti predispone già allo studio di un'altra lingua germanica. Magari i risultati non sono immediati, ma il fatto che già è come se tu avessi un file nella testa capace di recepire le informazioni e poi di riprodurle, quindi di parlare in tedesco. E comunque questo è un discorso che potremmo utilizzare un po' per tutte le lingue, perché ho notato che più lingue studi, più lingue impari, automaticamente diventa sempre più facile acquisirne di nuove. Ti faccio un esempio. Io parlo l'italiano, il tedesco e l'inglese e un pochino di spagnolo. Qualche anno fa ho voluto provare a studiare un po' l'arabo, lingua che non ho ovviamente mai parlato in vita mia, e non potevo nemmeno attaccarmi a nessuna delle mie quattro lingue conosciute per studiare l'arabo. Però il fatto di saper parlare in tedesco mi ha aiutato con la creazione di suoni consonantici che non avevo mai fatto in vita mia. E quindi il mio cervello è andato a pescarli nella cartella di file della pronuncia tedesca per riuscire a pronunciare queste parole così complesse, non in quelli della cartellina di italiano. Quindi, per concludere, possiamo dire sì, come ti ho detto prima, jain. Conoscere l'inglese o un'altra lingua germanica può esserti utile, non molto per le strutture, per la complessità delle declinazioni, dei casi, però può esserti utile per la somiglianza con alcune parole, per alcune frasi, alcune strutture e per la forma mentis che questo ti ha dato. Ora, lo so che sono un po' di parte, però il mio consiglio è che tu sappia già l'inglese o meno. Hai voglia di studiare il tedesco, hai una forte motivazione, una passione, hai voglia di farlo. Fallo e non pensarci troppo. A presto! Bis bald!